Ricordiamoci che siete tutte persone scelte a caso tra il pubblico dello studio. Ora i miei assistenti vi porteranno una tenda. Tra un secondo chiederò ai conduttori di reggere la tenda. Non fatela cadere. Adesso abbiamo posizionato i nostri volontari intorno a tutto il palco. Sono persone scelte a caso e ci vedono da ogni angolazione. È praticamente impossibile fare un numero di illusionismo in queste condizioni. Quindi conduttori sulla tenda, reggetela forte e non fatela cadere. Al mio 3, 1, 2, 3, giù la tenda.